E' l'ex sindaco Tedda a fotografare la situazione di quest'estate riguardo la pessima condizione dell'igiene urbana e del decoro in città. Per Tedda ci sono difficoltà oggettive ma sono stati commessi degli errori. In tutto questo non passa inosservata l'assenza dell'assessore competente. Intanto c'è da registrare una grossa perdita d'acqua in via Giovanni XXIII. E' stato il Vescovo Monsignor Mauro Maria Morfino a comunicare le nuove nomine e trasferimenti di alcuni parroci nel territorio di competenza della diocesi di Alghero Bosa. Intanto per la politica bilancio in commissione proposte di Melis per il parco. E' Gert Pins, giocatore e allenatore di grande esperienza che ha fatto anche diverse presenze con la Nazionale Azzurra e il nuovo allenatore dell'amatore Novacco Rugby Alghero. Un saluto a tutti voi ben ritrovati con la quotidiana informazione su Catalan TV. Da circa una settimana in via Giovanni XXIII è presente una grossa perdita d'acqua. Numerose le telefonate giunte alla nostra redazione che segnalano come da più di cinque giorni una sorta di fiumi ciattolo continua a scorrere in maniera copiosa lungo la strada. Inoltre gli abitanti spiegano che nessuno è ancora intervenuto per ripristinare il guasto alla condotta. Secondo quanto riferito ci sono stati avvisati già gli organi competenti ma i residenti attendono ancora che la perdita venga riparata anche perché lo spreco d'acqua sta diventando ingente giorno dopo giorno. Inoltre la presenza delle pozze sulla strada crea disagio ai passanti che si recano nelle attività commerciali presenti in quella zona. E l'ex sindaco Teddi a fotografare la situazione di questa estate riguardo la pessima condizione dell'igiene urbana e del decoro in città. Per Teddi ci sono difficoltà oggettive ma sono stati commessi degli errori. In tutto questo non passa inosservata l'assenza dell'assessore competente. Un'estate molto difficile sotto il profilo dell'igiene urbana quella che volge al termine. Il sistema di raccolta e gestione dei rifiuti ha sofferto come non mai e ha fatto soffrire la città. Per il vero anche nelle precedenti estati abbiamo affrontato molti problemi in tal senso ma non nelle dimensioni di questa stagione nella quale peraltro la quantità dei rifiuti è ridotta in proporzione alla minore presenza di turisti. E' l'ex sindaco Marco Teddi a ritornare sul problema dell'igiene e del decoro in città. I motivi? C'è un problema di fondo quasi strutturale. Alghero ha circa 42 mila abitanti che d'estate raddoppiano e probabilmente il servizio è mal calibrato. Occorrerà tenere conto nel prossimo bando anche se non possiamo negarlo, si legge ancora. Il potenziamento del servizio comporterà una crescita della Tarsu che grava sugli utenti. La raccolta differenziata è poi vero che indice di civiltà e di attenzione all'ambiente ma qualche problema lo crea anche se, per fortuna, ad Alghero la svolta culturale verso la differenziata e la sua accettazione sono da tempo avviate. E' quest'anno la buona notizia e che è evidente una presa di coscienza e un atteggiamento responsabile da parte dei titolari di pubblici esercizi, categoria che più di altri ha sofferto l'introduzione della raccolta differenziata. Per Teddi, oltre a ciò, è palese che, nonostante l'impegno del nuovo assessore, le maglie dei controlli si sono notevolmente allentate. Per gli effetti del commissariamento, per l'orario dimezzato dei controlli dei vigili del nucleo ambiente e infine perché mancano all'appello tre collaboratori interinali che controllavano per il comune l'operato dell'Aimeri. Visti gli insascoltati appelli dell'opposizione, Teddi si auspica che prossimamente il sindaco possa ascoltare di più tali consigli. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno sull'avvertenza Carbon Sulcis. La seduta aperta dalla Presidente del Consiglio regionale, Claudia Lombardo, è stata rapidissima. L'ordine del giorno approvato impegna la Giunta regionale a sollecitare il Governo nazionale al rispetto delle decisioni del Parlamento, dando immediata attuazione alla legge 99-2009 a sostenere attivamente l'avvertenza e la lotta dei lavoratori della Carbon Sulcis e a riferire costantemente al Consiglio regionale gli sviluppi dell'avvertenza. L'ordine del giorno di oggi, firmato da tutti i capigruppo, è stato presentato in seguito al dibattito che si è tenuto ieri in aula sull'avvertenza al COA. Negli interventi di numerosi consiglieri, infatti, si auspicava di allargare la discussione alla situazione complessiva di crisi che interessa il territorio del Sulcis inglesiente e in particolare alla miniera di Nuraxi Figus. Il Consiglio è stato riconvocato a domicilio. Cronaca, tentato furto alla Conad di Via Domminzoni nella notte tra lunedì e martedì. Alcuni malviventi hanno cercato di rubare all'interno del supermercato. Fortunatamente il colpo è fallito. Sul posto i carabinieri di Alghero, che si stanno occupando delle indagini. Hanno cercato di introdursi nel grande store Conad, il supermercato di Via Domminzoni, forzando le due porte dell'ingresso. Ma qualcosa li ha fatti desistere e il colpo non ha avuto successo. Sono i carabinieri della compagnia di Alghero, indagare sul tentato furto, che nella notte tra lunedì e martedì alcuni malviventi, ancora non si conosce il numero esatto, hanno cercato di mettere a segno. Ad accorgersi che qualcosa non andava, gli uomini della Mondial Pol, che si occupano di vigilanza. Intorno alle tre è scattato l'allarme nella caserma dei carabinieri, che oltretutto dista pochi metri. I militari, una volta giunti sul posto, hanno cominciato a raccogliere indizi e prove utili per risalire responsabili. Come detto, nulla è stato sottratto. I ladri, che sono solo riusciti a spostare la cassaforte, devono essere stati disturbati da qualcosa o qualcuno, forse proprio dall'arrivo della vigilanza, e hanno desistito. Come detto, sono i carabinieri che indagano sull'episodio. Non è escluso che per le indagini possano essere acquisiti video di alcune telecamere di sorveglianza presenti nella zona.